Nessun taglio agli ospedali per come sono strutturati ora e una integrazione del servizio sanitario tra pubblico e privato è l'idea con la quale il commissario regionale alla sanità Toma si siederà davanti ai tecnici del tavolo interministeriale a Roma con cui dovrà confrontarsi per il piano operativo che rimarrà in vigore fino al 2024. Tutte le prestazioni erogate ad oggi ha spiegato il governatore verranno mantenute e sono previsti eventuali potenziamenti. La proposta è stata illustrata ai sindacati di categoria che hanno incontrato Toma a Palazzo Vitale proprio per avere un confronto ed eventualmente ritoccare il piano che è in fase di ultimazione. Toma ha rimarcato che il post 2022-2024 è frutto di incontri oltre che con i rappresentanti sindacali anche con le istituzioni gli ordini professionali e i comitati. Con tutte queste categorie che svolgono un ruolo importante nell'organizzazione della sanità ha aggiunto Toma. Abbiamo ascoltato e poi condiviso i problemi che vanno affrontati e risolti in questo modo ha concluso. Siamo arrivati a una sintesi che è contenuta nelle linee di indirizzo della nuova programmazione che non prevede alcun taglio e con qualche possibilità di integrare la sanità con il PNRR. Intanto però per una regione piccola come il Molise quello in corso è il tredicesimo anno di commissariamento per rientrare da un debito che resta nell'ordine di un paio di centinaia di milioni di euro. Briciole a confronto con i passivi miliardari di Lazio e Calabria la cui sanità è ridotta a brandelli. Da 13 anni i cittadini molisani sono soggetti a una tassazione superiore a quella delle altre regioni italiane.